Massimiliano, lo scrittore comico può utilizzare, o lo scrittore anche non comico diciamo, però chi sa maneggiare diciamo gli strumenti del comico, gli strumenti del saper far ridere, li può utilizzare per far paura invece? Diciamo che sì, però si può fare pure il contrario, quindi partiamo dal contrario, cioè si può utilizzare la paura per far ridere e di conseguenza si può utilizzare l'umorismo per mettere paura. Questo perché? Perché quando noi ridiamo facciamo la stessa identica cosa che facciamo quando urliamo di paura, utilizziamo gli stessi muscoli del corpo e partiamo dallo stesso meccanismo. Tanto è vero che dopo una grande paura, la paura di dover affrontare qualcosa, noi generalmente ridiamo. O addirittura quando la situazione è così complicata da poter essere risolta, tutti quanti dicono non c'ho più lacrime per piangere, rido. Questo perché? Perché la paura è un motore che è noto a tutti quanti, è quello che ci fa muovere per un sacco di cose nella vita, no? E quindi tutti gli elementi portano in realtà alla nostra paura, soprattutto quando scriviamo. In realtà, quando noi leggiamo un romanzo, questa può essere un'affermazione secondo me abbastanza universale, lo leggiamo perché noi abbiamo paura che ci accadano le cose che succedono ai personaggi del romanzo. Pensa ai libri di Stephen King, ma perché uno dovrebbe leggere un libro su un pagliaccio che uccide i ragazzini? Non c'ha nessun senso, ma lo facciamo perché? Perché noi non vorremmo mai essere in quella situazione. Però nella fiction ci possiamo stare, che Stephen King è abbastanza cattivo da portarci lì. Fa pure ridere, eh? Un pagliaccio che uccide i ragazzini, ci serve un certo senso dell'umorismo per pensarlo. Eh, quindi. Fa più paura proprio perché fa ridere. Più paura proprio perché fa ridere, certo, è chiaro. Perché è un pagliaccio, uno non si aspetta. Cioè, adesso sì, dopo che abbiamo visto It. Sì, ma tu adesso, tu pensa che Stephen King ha prodotto un danno a Ronald McDonald, te lo ricordi? Era il pagliaccio con cui McDonald sponsorizzava tutti i suoi punti vendita. Quando It ha raggiunto il suo successo in TV, l'hanno tolto perché era uguale. L'ha rovinati. Perché? Perché lui si è arrivato all'immagine di un pagliaccio terribile, con i capelli per aria, che infatti non fa ridere più nessuno. Io non ho mai visto un bambino ridere per un pagliaccio. Generalmente piangono. Il pagliaccio ormai è un personaggio horror, come le due bambine di Shining. Nessuno le guarda in modo, diciamo, carino. Nessuno dice, ah, che belle bambine. Però tu pensa a Shining, c'è una scena bellissima che è piena di senso dell'umorismo, ma è piena di paura. Cioè a un certo punto c'è questa famiglia dentro l'albergo, isolata in montagna, e nessuno può raggiungerli, ok? Perché c'è la neve sulla strada e sono chiusi dentro e Jack Nicholson ormai è impazzito. C'è soltanto una persona che può salvarli, che è in collegamento radio con loro, che è un uomo di colore che porta il gatto delle nevi, ok? Ed è l'unico che può raggiungere l'albergo. Questo qua sale sul gatto delle nevi, fa tutta la strada, si mantiene in collegamento radio con la moglie, arriva lì e come scende dal mezzo Jack Nicholson, gli dà una zaccagnata e l'ammazza. Questa cosa è estremamente comica, noi non ridiamo in quel momento, però in realtà si basa su un meccanismo dell'umorismo. E come diceva Paolo prima, la sintesi. Non è che c'è la colluttazione con Jack Nicholson, scendi, gli dà una mazzata e muore, ok? Solo che in quel momento non ridi, perché? Perché tu stai tifando per la moglie di Jack Nicholson, quindi vuoi che si salvino, che qualcuno vada lì e prenda Jack Nicholson e lo porti via, invece non ce la fanno. Quindi la paura è il motore della comicità, in tantissimi casi. Come nel pezzo che abbiamo citato prima di George Carlin, la paura di estinguerci, o nel pezzo che abbiamo citato prima di Marco Presta, la paura della vecchiaia, e di essere considerati persone anziane o vecchiacci, che poi alla fine fa paura allo stesso modo. Radio Genius, se ti piace, metti mi piace.